Durante l'ultimo consiglio la parte incriminata è stata proprio questa mozione urgente, in quanto all'ordine del giorno c'era già un'altra mozione con lo stesso dispositivo che la maggioranza ha votato, in cui, in parole povere, l'amministrazione comunale dava mandato ad Aset di avviare lo studio di fattibilità per il digestore anaerobico da realizzarsi in tre località, Bellocchi, Falcineto o Monteschiantello. Durante l'intervento del consigliere della lista a noi città, quindi la lista civica che fa capo al sindaco di Fano, Massimo Seri, è apparso un documento che non avevamo mai visto nel quale vengono fatti presente che ci sono due vincoli comunque che vanno rispettati. Uno è quello della distanza dai centri abitati di 500 metri e l'altro è quello della distanza, la vicinanza di aree con vincoli ambientali, quindi i cosiddetti pozzi, che anche lì c'è un limite di 10 metri di raggio dai pozzi veri e propri. La cosa che ci ha lasciato perplessi è il fatto che in questo documento viene proprio indicato che l'area prevista per l'eventuale espansione della zona industriale di Bellocchi non sembra utilizzabile per un digestore anaerobico. A quel punto, come gruppo consigliare Lega, ci siamo chiesti che se veramente questo documento è vero e quindi nell'area di Bellocchi non è attuabile lo studio di fattibilità del digestore anaerobico, noi non possiamo dare assolutamente affidamento ad ASET lo studio di fattibilità. Quindi come gruppo consigliare della Lega da sempre siamo stati contrari alla realizzazione del digestore anaerobico all'interno del comune di Fano, però ci sembra quasi paradossale questo documento che abbiamo visto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Quindi prima di dare incarico a Nomisma di avviare lo studio di fattibilità è bene che vengono chiariti e approfonditi questi due aspetti che sono riportati appunto in questo documento perché qualora uno dei siti nei quali deve essere avviato lo studio di fattibilità non fosse idoneo alla realizzazione di un impianto anaerobico è bene che venga fermato tutto prima ancora di avviare lo studio di fattibilità e quindi di avere anche dei costi che gravano sulle tasche di cittadini fanesi.